Sì, è stata una vittoria importante per il nostro proseguo di questo campionato. Siamo contenti, siamo forti, lo sappiamo, e dobbiamo continuare sempre così a dare il massimo. È da tanto che aspetto questo gol, perché da tanto tempo che ero in segno è stato bello che è arrivato così e fanno un gran gol e mi faccio gli applausi da solo. Sì, sì, sono contento per questo, spero sempre di continuare così, a dare continuità e giocare fin quando posso, il mister me lo permette. È una trasferta importante, però noi sappiamo quanto valiamo, non ci spaventiamo sicuramente. Andiamo lì, che siamo belli cattivi come oggi e speriamo di fare bene pure lì. Sì, quello già dall'inizio, da quando sono arrivato, ho visto che è un gruppo molto unito e per questo mi ha dato anche forza di stare qui con i ragazzi che sono tutti meravigliosi.